Un lungo confronto all'interno del circolo ma la disputa resta aperta all'interno del Partito Democratico e della maggioranza del sindaco Ignazio Puglisi a piedi Montetneo. Alla riunione di ieri sera ha partecipato pure il segretario provinciale d'Emmenzo Napoli per provare a dirimere la diatriba tra il gruppo vicino alle posizioni del primo cittadino e i due consiglieri comunali Mario Nucifora e Santo Pace che hanno compiuto lo strappo nella maggioranza. Per questo stasera il circolo si confronterà e come mio solito cercherò sempre di far incontrare le diverse componenti del partito perché pensiamo che il PD debba comunque lavorare unito per dare risposta alle esigenze, ai bisogni e alle aspettative dei cittadini. Al termine della riunione il segretario Napoli ha convocato un altro incontro tra almeno 20 giorni accogliendo la richiesta di Nucifora e Pace di maggiore dialogo all'interno del partito. Al tempo stesso è stato chiesto ai due di evitare nuovi strappi in consiglio comunale dopo il caso della sfiducia all'assessore Leva. Lo stesso segretario cittadino Stefano Rapisarda si è impegnato a realizzare una piattaforma programmatica che possa riportare la coppia ribelle nell'alveo dell'amministrazione puglisi.